La pace in Ucraina e l'accoglienza dei migranti, questi temi chiave del 41esimo viaggio apostolico di Papa Francesco che ne ha parlato anche la prima udienza generale rientrando in Vaticano dopo il pellegrinaggio in Ungheria. Ne parliamo anche noi con Massimiliano Menichetti responsabile di Radio Vaticana e Vatican News e con Donatella Parisi portavoce del centro a stalli. Allora Massimiliano il Papa ha ribadito l'importanza di creare ponti. L'importanza di creare ponti l'ha ribadito dal primo momento all'incontro con le autorità, il corpo diplomatico, la società civile proprio all'ex monastero carmelitano, ha proprio guardando la città di Budapest che proprio geograficamente è costruita grazie ai ponti, la fusione diciamo di tre città in sostanza ha sottolineato la necessità di costruire relazioni perché i ponti sono relazioni, relazioni, conoscenza, incontro rispetto ad una cultura che invece va a erigere muri. Ha parlato alla popolazione ucraina, dell'Ungheria, riferendosi alla grave crisi anche che sta vivendo l'Ucraina, quindi a questa ferita grande che c'è in Europa. Sicuramente questo è stato il centro per poter parlare della pace e della costruzione di pace. Chiaramente questo sguardo si allarga tutto il mondo anche perché tutto il mondo vive la frammentazione dei muri. Se noi guardiamo anche il Centro America e il Sud America, sono tanti anche muri in Africa, in Asia ci sono tanti muri diciamo culturali di blocco che impediscono alle persone di crescere, impediscono alle persone di uscire da situazioni di guerra, che impediscono alle persone di avere una vita migliore. Ecco, certamente il focus è stato sull'Europa ma lo sguardo è per tutta l'umanità. Si è rivolto anche all'Italia, all'Europa in particolare anche all'Italia che sul fronte dei migranti occupa una posizione particolare, Donatello. Beh sì, l'Italia geograficamente è un ponte verso l'Africa e l'Asia, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, anche se l'Europa la vorrebbe fortezza o comunque muro che respinge. Dal mare arrivano centinaia di persone in cerca di protezione e accoglienza, una protezione e accoglienza a cui hanno diritto. Hanno diritto in base a convenzioni internazionali ma anche ai principi basilari di umanità. In questo Papa Francesco non perde occasione per ricordare che nel mondo c'è la terza guerra mondiale a pezzi e da quei pezzi scappano le persone in cerca di salvezza. Non dargliela è inaccettabile. Queste le parole che Papa Francesco ripete spesso. Intanto vediamo di collegarci con Giovanni Orsenigo che si trova in Piazza San Pietro per capire un po' quali sono stati gli umori a margine di questa prima udienza generale che Papa Francesco ha tenuto dopo essere rientrato dal 41esimo viaggio apostolico a Budapest. Giovanni. Tanti gruppi presenti quest'oggi qui in piazza lo abbiamo sentito anche dai saluti di Papa Francesco, in particolare i 200 partecipanti al seminario intitolato Rilevanza e Ascolto comunicare il messaggio cristiano nella pluralità delle voci contemporanee organizzato dalla Pontificia Università Santa Croce. Questa mattina abbiamo ascoltato il professor Daniel Arasa, il decano della Facoltà di Comunicazione della Pontificia Università, quindi prego la regia di mandare in onda il servizio e poi la linea può tornare a voi in studio. Noi abbiamo organizzato un seminario di comunicazione della Chiesa e abbiamo portato a Roma più di 300 direttori di comunicazione di istituzioni ecclesiali di tutto il mondo, delle diocesi, conferenze episcopali e congregazioni religiose e dentro del programma del nostro seminario c'è la partecipazione all'udienza con il Santo Padre il mercoledì qui in piazza San Pietro. Per noi è un'emozione enorme e penso che per le persone che non abitano a Roma, quindi che vengono poco a Roma, incontrare il Santo Padre e il successore di Pietro è una cosa che non si può dimenticare. Quindi al di là di tutta la parte accademica, didattica, di scambio di impressioni, per noi essere con il Papa è una dimostrazione dell'unità e dell'universalità della Chiesa. Il tema del seminario è rilevanza e ascolto, è proprio che stiamo immersi nel processo sinodale, pertanto molte delle persone che hanno partecipato manifestano come stanno vivendo anche questa realtà dell'ascolto nelle proprie diocesi e questo trasmette a loro una gioia impressionante il vedere che ci sono tante persone nella Chiesa in posti molto diversi, con situazioni diverse, con difficoltà e problemi diversi ma che allo stesso tempo sentono questa unità e sentono questa gioia di essere cristiani, di vivere cristiani. Quindi nel seminario si vede benissimo come i partecipanti sentono appunto una gioia interiore che si espresa, si manifesta costantemente nella reazione, nei ringraziamenti, nella gioia in generale delle sessioni e nel tono positivo che si vede in tutti i nostri incontri. Dunque la sinodalità, momento chiave della Chiesa, momento che Papa Francesco non ha mancato di sottolineare anche nelle tre giornate a Buda questo ha chiesto porte aperte nelle nostre comunità. Ha chiesto a tutti siate porte aperte, porte aperte riguarda sia l'aspetto se vuoi di vicinanza e di perdono che la Chiesa deve avere nei confronti di chiunque invoca appunto la grazia di Dio che sempre perdona, che sempre ama e lo ha ribadito, porte aperte per quanto riguarda la realtà della vita delle persone che devono poter, richiamando anche la questione delle migrazioni perché se il continente europeo vede fondamentalmente due flussi, il flusso del Mediterraneo e il flusso della rotta balcanica, quindi quello più interno, quello che si percorre più a piedi diciamo e che coinvolge l'Ungheria in maniera diretta, incontro e porte aperte significa questo poter incontrare e poter vedere l'altro, come dicevamo poter vedere l'altro grazie al trascendente è la visione di Dio che restituisce all'uomo il volto e quindi consente di vedere l'altra persona porte aperte, incontrare e relazione. Donatella, l'atteggiamento delle istituzioni italiane però è un po' diverso diciamo da questo punto di vista il tema della protezione assume un tono assai particolare, soprattutto in questi giorni Sì, purtroppo da anni in Italia si continua a parlare di emergenza migranti quando un'emergenza non sono perché ormai da vent'anni le persone arrivano in cerca di protezione e in questi ultimi periodi, in queste ultime settimane vediamo ancora una volta delle politiche securitarie di chiusura che si immaginano cercano un'Italia che sia chiusa all'arrivo delle persone ma questo è realizzabile, lo abbiamo visto anche in passato, non bastano norme estremamente rigide o severe a bloccare la disperazione degli esseri umani che in tutti i modi cercano salvezza perché rimanere nei loro paesi vuol dire morte certa e questo dobbiamo metterlo in conto e su questo dobbiamo ragionare. Quindi secondo noi le ultime misure, secondo il Centrastali, il decreto CUTO il decreto che cerca di regolamentare la presenza molto piccola e insufficiente delle ONG in mare ci dice ancora una volta che stiamo andando nella direzione sbagliata quella che ci porterà ad ancora morte di persone innocenti e che non risolverà poi il problema delle migrazioni le migrazioni non sono un'emergenza, sono un fenomeno strutturale in quanto tale va gestito con delle politiche che programmino gli arrivi e che possano garantire un'accoglienza dignitosa e dei percorsi di integrazione che permettano alle persone da peso di diventare una risorsa. Vediamo le immagini di Papa Francesco a Lesbo ma potremmo anche richiamare le immagini di Papa Francesco a Lampedusa nel 2013 nel suo primo viaggio al di fuori dei confini vaticani dove andava a ricordare uno dei drammi che successe dieci anni fa appunto drammi del mare a largo di Lampedusa, passa il tempo però le situazioni restano le stesse drammaticamente. L'8 luglio del 2013 Papa Francesco da Lampedusa, una piccola isola nel centro del Mediterraneo che lui fece diventare il centro del mondo, chiese all'Europa dove è tuo fratello? Riferendosi ai migranti che morivano in mare oggi quella domanda è ancora di grandissima attualità dove è tuo fratello Europa? E dall'Ungheria ha chiesto di accogliere di farsi carico di questi fratelli che chiedono giustizia e rispetto della dignità umana. Massimiliano, queste posizioni di Papa Francesco non sono una sua invenzione diciamo la verità, cioè c'è un discorso che viene fuori anche da altri papi il Magistero di tutti i papi concorde in questo discorso dell'accoglienza non è quindi una novità questa? Certamente possiamo dire che i papi di fatto che cosa portano? Portano la parola del Vangelo, è Gesù Cristo che indica questa via di accoglienza questo grande abbraccio nei confronti dell'umanità e cerca di restituire questa universalità quindi questo sguardo di accoglienza globale perché la pace, la fraternità, la sinodalità sono queste espressioni di declinazione di quello che è la testimonianza cristiana quindi i papi in questo solco chiaramente cercano di unire, di muovere il cuore dell'uomo per la costruzione di una umanità più giusta, più fraterna, più vera e anche il Papa ha ricordato ai giovani, ad esempio nell'incontro nel palazzetto dello sport non siate immobili, fermi, tiepidi, ma costruite, sentitevi voi stessi lo ha ricordato a tutto il popolo ungherese in questi tre giorni di viaggio ha ricordato a tutti questo prendere in mano personalmente, sentirsi coinvolti personalmente in questa azione di costruzione della pace ma la costruzione della pace è possibile soltanto aprendo una relazione con l'altro l'accoglienza è possibile soltanto conoscendo l'altro quindi abbattendo quelle che sono le paure cioè i muri si abbattono abbattendo le proprie paure e la paura si abbatte conoscendo l'altro quindi un appello alla comunicazione, ad entrare in contatto con le persone è un richiamo che forse è diretto a tutti noi nelle nostre giornate nella nostra quotidianità grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi oggi a voi per l'attenzione e buon proseguimento grazie a tutti